Doveva essere destinato ad accogliere aule scolastiche delle classi elementari, ma invece erano ospitate palestre, scuole per estetiste, un centro sportivo ed una scuola paritaria. A scoprirlo sono stati i carabinieri della tenenza di quarto, guidati dal maresciallo Antonio Flore. Denunciata per abuso edilizio, una 51enne di quarto, proprietaria dello stabile. I sigili sono stati apposti dai militari ieri mattina, dopo un lungo e scrupoloso lavoro di indagine che potrebbe però non finire qui. Si tratta probabilmente di uno dei più importanti sequestri edilizi mai effettuati nella cittadina flegrea, avendolo stabile un valore stimato di oltre 6 milioni di euro. Ora i riflettori sarebbero puntati su eventuali leggerezze compiute a livello tecnico-amministrativo riguardanti permessi, licenze e omessi controlli. Il complesso, secondo quanto stabilito nella destinazione d'uso, doveva avere l'unico ed esclusivo obiettivo di ospitare aule scolastiche elementari. Non era quindi possibile realizzare altro, né tantomeno sarebbe stato permesso suddividere internamente lo stabile in ambienti differenti attraverso l'erezione di tramezzi, cambio di destinazione d'uso ed abuso edilizio. Sono questi i tronconi principali dell'inchiesta dei carabinieri, denominata Orfeo. Il sonno di chi avrebbe dovuto provvedere ai dovuti controlli, infatti, è il perno al quale ruota buona parte delle restanti indagini. Colpiscono non solo le dimensioni dello stabile, ma anche la sua posizione. Praticamente a fronte strada è lungo la principale direttrice che taglia in due la città, Corso Italia. A pagare il prezzo più caro potrebbero essere ora le stesse attività economiche che da tempo avevano la loro sedia all'interno dell'ufficio, da ieri sotto sequestro. Cancelli sbarrati e sigilli agli ingressi. Un lavoro di indagine, dunque, che ha permesso di smascherare l'ennesimo abuso edilizio, realizzato non a riparo da occhi indiscreti, ma addirittura lungo la strada più trafficata della città.